Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati con le pagelle di Lecce Juventus 0-1. Una vittoria che arriva con un gol di Niccolò Fagioli, come vedete anche dalla grafica di Soccerment. Poi nel pomeriggio, grazie a Soccerment, andremo ad analizzare anche nel dettaglio la prestazione, secondo me, brutta della Juventus. E vi lascio i link qui sotto in descrizione per andare a vedere i dati di Soccerment sulla piattaforma di Soccerment. Poi andiamo ad analizzarli insieme con un altro video. La Juventus conquista tre punti su un campo complicato come quello di Lecce, in una partita un po' così, un po' tirata. Infatti, come potrete vedere poi, anche dai voti di queste pagelle, non avremo chissà quali valutazioni. Quindi direi di iniziare subito, perché ci sono tante cose da dire, anche in una partita abbastanza ridotta a livello di occasioni. 5,5 a Massimiliano Allegri, perché la Juve non mi è piaciuta, non posso essere soddisfatto di quello che è questa Juventus. Anche pensando un po' alle prossime gare ho paura, perché mercoledì poi ci giochiamo l'accesso all'Europa League, perlomeno, oppure l'eliminazione completa dall'Europa contro il PSG. E sottovalutare il PSG significa fare una figuraccia in mondo visione, e vorrei evitarla. Quindi sicuramente una prestazione del genere a Torino contro il PSG non la possiamo fare. Come non possiamo farla con la Lazio, come non possiamo farla con l'Inter, e forse come non possiamo farla nemmeno contro l'Elas Verona, perché ormai mancano pochissime partite da qui alla pausa, soltanto quattro, di cui tre di campionato e una di Champions. E' anche vero dall'altra parte che mancavano tanti giocatori e che si doveva fare con quello che si aveva. Allegri è un grande merito, secondo me, e cioè di sostituire McKennie alla fine del primo tempo, di inserire Fagioli, che è un po' la svolta della partita. Per il resto quello che abbiamo visto non è assolutamente sufficiente per una squadra come la Juventus, non è sufficiente per una squadra che vuole arrivare nelle alte posizioni, e allo stesso tempo non è nemmeno una partita da valutare al 100%, perché gran parte della Rosa era fuori. Quindi secondo me 5,5 è il voto perfetto, perché non va né nella direzione della sufficienza, perché è una partita insufficiente, né nella direzione della bocciatura definitiva, proprio perché c'erano delle attenuanti. Quindi secondo me 5,5 è la valutazione ideale, poi è ovvio che poteva essere più alta anche in una condizione di emergenza, con una vittoria convincente, che secondo me non è avvenuta nella partita di ieri. Scesni, voto 6, perché meno male il Lecce, a parte quel palo nel finale, beh, occasioni vere e proprie, grandi, clamorose, non ne ho viste. E quindi Scesni è stato quasi uno spettatore non pagante, e nulla più. Quindi manteniamo la porta inviolata, clean sheet, molto bene, però affrontavamo una squadra veramente in seria, netta difficoltà, e quindi meno male che sia riuscito a non prendere il gol almeno da questo Lecce qui. Gatti, 6, Gatti è stato prudente, veramente, la parola, se dovessi scegliere un hashtag per Gatti è prudenza, perché anche nei momenti in cui poteva andare dal portiere, nei momenti in cui poteva fare un retropassaggio, o poteva spazzare alta per cercare di leggerire, lui buta in fallo laterale, nel dubbio in fallo laterale, meglio là che qua, proprio per essere sicuri, per essere convinti, però capisco anche un po' la filosofia dei Gatti, perché sono le prime partite in Serie A, sulle prime partite con la maglia della Juventus, e questa paura se la porta dietro ci sta, quindi si becca il suo 6, la sua sufficienza, perché comunque la partita non è insufficiente, però deve iniziare ad avere anche un po' più di consapevolezza e di riguardo nei confronti del pallone, si può cercare di mantenere il possesso senza doverlo per forza buttare in fallo laterale, ma arriverà col tempo, questa è tutta una questione di esperienza, 6 anche a Danilo, la Juventus non soffre, l'abbiamo detto, meriti della Juventus, dei meriti del Lecce, magari una serie concatenata di queste due motivazioni qui, Danilo si becca al suo 6, sempre attento, Danilo tra l'altro oggi faceva proprio l'ultimo uomo in assoluto, Danilo che aggiunge un piccolo ruolo al suo database di prestazioni, e quindi sappiamo che dove c'è un buco c'è Danilo, pronto a colmarlo. Quadrado non mi è piaciuto, no, probabilmente uno dei peggiori in campo, ma ancora nervoso fa quell'intervento lì, si becca il giallo, poi in altre occasioni rischia ancora il giallo, da capitano della Juventus perché mancava Bonucci, ma Quadrado è all'ennesima partita stagionale che non mi dice niente, lento, goffo, non salta l'uomo, non crea superiore rota numerica, non so più cosa fare con questo Quadrado, lo metti alto, lo metti basso, lo metti esterno, lo metti più interno, lo metti, lo stringi, lo allarghi, il risultato non cambia, Quadrado che in questa stagione veramente non riesce a dare quello che ha sempre dato alla Juventus, e quindi si becca un'altra insufficienza, perché secondo me la partita di Quadrado non arriva al 6, invece mi è piaciuto molto Alexandro, e Alexandro è tolto la partita col Benfica, ha avuto un problema all'Anche dove è subentrato, però in campionato è già la seconda, la terza partita di fila che convince, che convince, stiamo ritrovando Alexandro? Non ho idea, cioè dall'altra parte mi sembra anche assurdo dire che stiamo ritrovando Alexandro e stiamo perdendo Quadrado, però poi alla fine il campo che parla bisogna ascoltarlo, secondo me è Alexandro uno dei migliori in campo in questa partita, attenzione, concentrazione, passaggi, stava lì, copriva, spingeva anche nel primo tempo un'unica azione vera e propria, nasce da Alexandro che si stacca, porta palla, va in verticale, va a cercare su Lecchi, appoggia su Miretti, il tiro in porta, quindi bene, secondo me Alexandro è andato bene, in questo mare di mediocrità sta emergendo pure Alexandro, questo è il messaggio che mi ha dato un mio amico, e non posso fare altro che concordare con lui. 5 e mezzo McKennie, poi Allegra ha detto che aveva un po' di influenza, aveva avuto l'influenza, secondo me non è una partita terrificante di McKennie, perché comunque qualche pallone l'ha recuperato, però fuori forma, cioè ormai io più di dire che McKennie è fuori forma non so che altro dire, cioè non c'ha lo spunto, l'unica cosa che ha McKennie è l'inserimento, ottimi tempi di inserimenti, e questa grande fisicità che lo aiuta tanto, ma per il resto in questo momento McKennie secondo me è impresentabile ad altissimi livelli, lasciate stare i gol, perché è il gol che fa col Benfica ragazzi, in quella mischia sul finale, d'accordo, perché anche prima in live su Twitch qualcuno mi continua a dire, però McKennie gol fa gol, sì, d'accordo, però nella totalità della partita parte qualche pallone recuperato, McKennie sto facendo veramente fatica a vederlo, 5 e mezzo, non è una bocciatura incredibile, però l'inerza della partita cambia proprio con la sua uscita, ma più che con la sua uscita con l'ingresso ai fagioli, poi ne parliamo. Sai Rabiot, perché secondo me non è una partita insufficiente, ma nemmeno una delle partite sullo standard di prestazioni che Rabiot sta fornendo in questo ultimo periodo, e sapete bene, non sono fan di Alexandro, non sono fan di Rabiot, però quando poi il campo parla e ci sono delle prestazioni di un certo tipo, è giusto riconoscerle. Quella di oggi con Lecce non è stata una prestazione alla Rabiot, formato 22-23, però nemmeno terrificante, vado ad aggiungere che nel centrocampo non c'era un vero e proprio giocatore in grado di dar via l'azione, perché Locatelli e Paredes erano fuori, e quindi si è fatto un po' con quello che si aveva, si è fatto di necessità virtù. Rabiot si prende il 6 da compitino, nulla più, ma sicuramente non è una partita insufficiente. Nel primo tempo trova anche l'unico vero tiro in porta, se vogliamo, con quel colpo di testa su calcio d'angolo. Kostic non mi è piaciuto, mi era piaciuto col Benfica, era uno di quelli che avevo salvato col Benfica, oggi poco, secondo me poco, forse nulla, ma nella totalità della partita della Juventus, poi è ovvio che nei singoli va tradotto con il nome di Filip Kostic, 5 e mezzo, non mi ha convinto, alla grandissima. Kostic secondo me è un giocatore che in un sistema di gioco, anzi in una squadra che funziona, il suo lo può dire tranquillamente. Questa Juve è un po' altalenante, infatti le sue prestazioni, i suoi voti vanno dal 5 al 6, 5 e mezzo come in questo caso, quindi c'è sempre un po' di montagna russa. Sule, voto 6, lo dicevo nel pre-partito, ero curioso di vederlo dal primo minuto perché è uno dei quei giocatori che ancora non mi ha colpito, anche oggi non mi ha colpito al 100% Sule, diversamente da Ealing che mi aveva soddisfatto sia con l'Empoli sia col Benfica, anche oggi quando è entrato, ma Sule non mi ha rubato l'occhio come Ealing, però nel primo tempo è stato, anzi più che nel primo tempo forse nella stagione della Juventus, fino adesso uno dei pochi a provare l'uno contro uno e a cercare la superiorità numerica. Siccome la partita di Sule non è stata perfetta anche perché ha giocato in una posizione abbastanza centrale, se vogliamo, se vogliamo, perché io me lo immaginavo largo a destra, invece magari era un po' la posizione di riferimento, ma lui ha giocato molto tra le linee, non è stato eccellente, non è stato magnifico, però ha cercato sempre l'uno contro uno, ha cercato sempre di dare superiorità numerica, ha cercato sempre di saltare l'uomo, e quindi questo secondo me è una cosa che gli va riconosciuta e va premiato, in questo modo nel secondo tempo veramente effervescente, infatti poi viene anche sostituito nel finale per via di crampi, perché poi quando si è abituato a non giocare mai è abbastanza facile farsi venire i crampi, credo che sia un 6 di incoraggiamento, perché le qualità ce le ha, la prestazione invece non è stata secondo me al 100% convincente, ma la prestazione della Juve in realtà non è stata convincente, è secondo me uno di quelli che comunque si salva nell'analisi dei singoli, perché il suo l'ha fatto, e cioè provare a saltare l'uomo, puntare l'uomo, creare superiorità numerica. 5 e mezzo invece Miretti che non mi è piaciuto, quell'intervento abbastanza rischioso, forse arancione più che giallo, qualche scelta sbagliata negli ultimi metri, anche nel cercare sempre la rifinitura, non mi ha convinto al 100%, nel secondo tempo invece è meglio, è salito un po' di condizione, poi Allegri secondo me decide giustamente di sostituirlo perché mancava mezz'ora, era ancora solo 0-0, era giusto inserire un'altra punta per cercare il gol, Miretti che non fa la prestazione migliore del Reame al suo ritorno in campo tra i titolari dopo un bel pezzo, davvero un bel pezzo, però non è una bocciatura, sappiamo che Miretti ha delle qualità, sappiamo che Miretti è uno dei giocatori a tenere d'occhio per il futuro, sono contento di poter dire che Sule per il futuro, Miretti per il futuro, ci sono healing e fagioli di cui parleremo dopo, quindi iniziano ad esserci dei nomi, tanti nomi all'interno di questa Juventus, di giocatori che possano dire la loro. 5 a Milik, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto ma sono abbastanza convinto che in questo momento sia abbastanza difficile per tutti gli attaccanti giocare all'interno della Juventus e secondo me questo deve essere anche un ragionamento che va a coinvolgere Vlaovic che oggi è fuori per Poubalgia, spero di recuperarlo entro la fine del filotto di partite che ci porterà al Mondiale, ma la Poubalgia è una brutta bestia e quindi c'è anche il rischio secondo me di non vederlo poi ovviamente secondo me la mia opinione basta, umilissima, non basata su dati medici, ma c'è secondo me il rischio di non vederlo fino al Mondiale perché vorrà cercare di recuperare in vista del Mondiale, ma per Vlaovic è stato abbastanza complicato fino ad adesso giocare lì davanti nella Juve come terminale offensivo unico e oggi Milik, che è un giocatore sicuramente più tecnico, ci ha fatto vedere che anche per lui c'è abbastanza difficoltà e quindi niente, 5 per Milik, ma ribadisco, secondo me un attaccante oggi nella Juve fa fatica e basta. 7 a Fagioli, che è il giocatore che cambia l'inerzia della partita soltanto entrando nel primo minuto da visione di gioco e ti fa capire che già la sua partita è migliore di quella di McKennie con un passaggio d'esterno a Rabiot e con una verticalizzazione, un bel lancio per quadrado largo sulla destra con un movimento senza palla, uno dei pochi movimenti senza palla della partita per quadrado che va in una posizione efficace in cui poteva addirittura cercare il cross che poi non avviene. E poi vabbè, quel gol capolavoro ad Alessandro Del Piero, quella corsa folle di gioia, di felicità, su Instagram ha detto lo aspettavo da 21 anni, il pianto, le lacrime, la commozione, la pelle d'oca che mi ha procurato, la gioia che è arrivata nel mio cuore nel vedere un giocatore che è Juventino, che è Juventino, risolvere una partita difficile, in un momento difficile, in un periodo difficile. Questa cosa è bellissima. In questa stagione disastrosa, questa probabilmente è una perla che mi porterò dietro, è una gioia che non uscirà dal mio cuore perché in una stagione in cui non ti giochi niente o poco più, come potrebbe essere questa, almeno chiedo la valorizzazione di questi ragazzi qua e per valorizzazione intendo farli giocare anche quando c'è a disposizione un altro giocatore che magari ha un palmeresce più importante, uno stupendo più importante, una storia più importante perché se no non c'entra a salvare e allora Miretti, Fagioli, Sule, magari Healing è ora di iniziare ad averli sempre di più nelle rotazioni perché fino adesso non ci sono stati dei fenomeni alla Juventus, non ce ne sono stati, sono stati due o tre giocatori magari sopra le linee rispetto a quegli altri e peggio di quelli non possono fare e a quanto pare forse possono fare anche meglio, certo contro una squadra abbastanza facile probabilmente da affrontare come il Lecce ma che deve essere un test di allenamento per farli essere pronti anche nelle prossime partite. Molto bene Nico, gol capolavoro, vinciamo sta partita solo grazie a lui e a poco altro perché non c'è stato tanto. Sei e mezzo a Iling che ancora una volta entra e la decide. Col Benfica non l'aveva deciso perché era entrato forse un po' troppo tardi la Juve era già abbastanza lontana ma subito ho detto vabbè il gol è tutto di Fagioli e confermo il gol è tutto di Fagioli però Iling prende palla punta e poi fa quel passaggio centrale poi dopo Fagioli fa la magia certo però Iling il primo pensiero che ha sempre è cercare di puntare la porta cercare di saltare l'uomo cercare di andare uno contro uno e dato che alla Juventus stanno mancando tante tanto queste caratteristiche beh uno come lui sicuramente fa piacere averlo in rosa poi purtroppo non riusciva più a correre nel finale una brutta entrata di Francesco un problemino alla caviglia vedremo quanto sarà il tempo di recupero peccato perché l'abbiamo appena trovato l'abbiamo già perso però questo è un giocatore importante per la Juve di oggi e per la Juve di domani tenerselo stretto Ken 5 e mezzo non un grande impatto secondo me di Ken sulla partita dopo un periodo invece in cui le cose le faceva secondo me anche discretamente bene era un buon momento per Moise Ken che forse poteva partire anche oggi titolare o forse no anche in previsione di quello che sarà il match con il PSG la sua ex squadra e ragazzi poi Bonucci è entrato e ha giocato pochissimi istanti abbiamo deciso di cercare salvaguardare il risultato ma anche lì sulle aveva i crampi in panchina c'erano due portieri Rugani Bonucci e compagnon bene o male il cambio per il capitano era abbastanza obbligato ho letto un po' di polemiche che ci sta perché capisci che difenderti contro il Lecce non è la cosa migliore del mondo però con quelli che erano in giocatore di disposizione non potevi fare tanto altro ragazzi vi invito a lasciare un mi piace a questo video perché oggi pomeriggio poi ci vediamo anche con l'analisi completa della partita grazie ai dati di Soccerment vi ricordo i link in descrizione anche perché c'è la possibilità di acquistare Xeed che è il parastinco intelligente che vi farà raccogliere i vostri dati dato che tante volte qui sul canale parliamo di dati è ora di raccogliere anche i vostri